ma esiste tu meni penna white point penna tu meni penna dov'è tu meni penna? qua? coppe record lo key 1,2,3,1,2,3 poi cosa mi serviva? vediamo un po' cosa mi potrebbe servire niente, per il momento ok perchè sono fuori? ah pirla voilà allora facciamo i cavetti ok ora tankete redstone un'altra redstone e questo qua electronic circuit poi 4 redstone 2 lapiscazzoli che li abbiamo là dentro porca loggia io non c'ho corrente per cui tu meni penna? allora mi servono 2 glowstone e 2 lapiscazzoli tankete thank you non sto rubando ragazzi lui sa già tutto è vero ci portiamo anche il laser ragazzi ma non c'ho corrente per caricare che poi qua forse avevo i cavi lo mettete? e infatti pirletta allora 2 di queste 2 di questi e questi qua ora dove io ho piazzicato la batbox io ce ne avevo una eh eccetera chi allora batbox electronic circuit poi 2 glowstone ancora orca loggia orca loggia tu meni penna basta chiamarlo e lui arriva tankete dai apriti apriti 1 2 devo andare nel nether ragazzi a parte gli scherzi a prendere un po' di glowstone eh casa mi devo rifare anche il check point qua eh eh white point e mettermelo in casa e non fuori ok batbox jetpack però eh ragazzi it's the problem dove lo carico che io non c'ho corrente tu meni penna avrà corrente tu meni penna dove ce l'ha un jetpack un ah ce l'ho là sopra lo ha chi sopra chi agli mfsu eh la peppina di maiorco la vai carica carica oh creeper ma togli faccio saltare la casa a rendi penna no via madonna aia ok possiamo volare voilà ok perfetto torniamo a casa madonna c'era una cosa lì mangiamo una bistecola però io sono a corto di cibo quasi quasi ci portiamo un po' di patate dai sette patate potrebbero bastare cuociamo le patate poi andiamo ragazzi allora mettiamo via questa roba chi non va e va ci andiamo a fare un giro nella tua light forest guardate dove erano i cavi orca lo ho già bomba i cavi mettiamo qua ok patate zucchine carote la mano è scarica 2.93 3.4 no non è scarica dai 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 vediamo un po' se c'è qualcuno su ts magari non si sa c'è surreal power ma è mutato c'è no non c'è rendi penna via ok dai altre due patate veloce dai 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 che ce la fai ultima patata in arrivo ok andiamo ragazzi basta damn damn qui come funzionano le batterie tutte le batterie cariche abbiamo direi che l'impianto funziona perfettamente andiamo voilà allora 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 dove ce ne andiamo io però non voglio consumare tutto il jetpack ragazzi come fa come fa come fa come fa lì abbiamo il ghiaccio con i pinguini lì abbiamo il mob che abbiamo sconfitto il boss io vorrei cercare qualche dungeon da solo per trovare qualche chest tanto l'ha fatto anche kaifer lo voglio fare anch'io andiamo da quella parte poi funghi no non mi dovrebbero servire cos'è qua uè attenzione attenzione a parte un albero strano perché c'è questa roba qua intorno questa costruzione ma questa che legna è dicete che può servire questa legna u dai dai ah si fanno i bar legna normale gli zainetti i chest pine per fuori il vabbè legna normale alla fine ragazzi non serve un kaiser non serve un kaiser vaffanculo vabbè questi ormai ti prendo ah i bastoncini perfetto andiamo andiamo continuiamo voglio le chest si ragazzi i white point dovrei già averli dovrei già avere i white point vedete ho il boss naga la casa di scheletri la scheletri 2 il portale la pianura c'è la foresta la test death dove sono morto che si può anche eliminare e poi abbiamo la chest andiamo nella pianura quale pericoloso le proprio pericoloschi ricordatevi che nelle foreste è pericoloso questo è il dungeon che se non erro eravamo entrati tutti insieme no questo è un altro no è sempre quello lì ragazzi e dove eravamo già stati si si qua siamo già andati cerchiamone un altro oh un blocco di lapiscazzoli quello deve essere un blocco di lapiscazzoli che è sto rumore? allora lì c'è una casa di scheletri poi ho sentito un rumore che non mi piace orca loggia la casa di scheletri ma dentro questi alberi ragazzi io mi ricordo che c'era però mi ricordo che c'era una chest in cima non so se poi l'han tolta ah bloccato ragazzi non vi preoccupate non è bloccato non è bloccato non è bloccato si è bloccato solo il coso add screen region arrivo eh voilà riechime riechime io mi ricordo che in cima qui c'era un qualche cosa però mi sa che l'han tolta sto salendo ragazzi non sto scendendo è un albero gigantescolo voilà siamo arrivati in cima e in cima ci sono altri alberi perfetto non c'è più niente di quello che pensavo no pirla le cicale fanno casino sono buggate allora vediamo un po' dall'alto che troviamo di sotto altri due di quelli lì c'è il dungeon che siamo già entrati lì c'è della neve dai ma io sono sfigato però oh uno slime gigante c'è lì la casa degli scheletri no però aspettate noi siamo arrivati là in quel dungeon non ci siamo entrati allora oh sì oh sì mamma che pirla sempre quello siamo già entrati vaffanculo dai troveremo altri dungeon ragazzi queste costruzioni non mi dicono nulla qua c'è un cinghiale dai porca loggia ah mi dicono scava sotto proviamo proviamo ma sotto a queste cose dite qua sotto ma è impossibile a parte che non c'ho una pala no ragazzi non c'è niente qua ho trovato qualche cosa no ma ragazzi ma questo qua è il dungeon che ci siamo già stati ci siamo già stati in questo dungeon vedete che le ceste sono vuote niente ragazzi siamo già stati in questo dungeon dai ve l'avevo detto io dove andare non si sa ma sì ma ragazzi ma giriamo giriamo troveremo qualche cosa sotto le colonne oh porca loggia quali colonne queste non c'è niente ragazzi ferro dai non c'è niente non fate perdere tempo vabbè non ho capito quali colonne ragazzi e troveremo qualcos'altro dai perché se no sto a 4 giorni a cercare le colonne dai dai oh gli uccellini ciao uccellini sono morti gli uccellini allora allora ragazzi se dovessi trovare un boss non non faccio niente col boss perché poi ci andremo tutti insieme con gli altri partecipanti della serie non voglio rubare boss a nessuno però voglio trovare chest quello sì voglio rubare le chest a qualcuno funghi giganti c'è un kaiser uno scogliattolo cosa troppa lo scogliattolo niente sta montagna è strana sta montagna è decisamente strana cos'è che roba l'è le torch brain changer le torch brain changer sta montagna è strana ragazzi non sto scherzando a parte che mi sta scaricando il jetpack orcalogia andiamo in cima alla montagna no è bella sta montagna però è strana o c'è qualcosa dentro chi te lo chi perché c'è che scoschi questo qua è della towncraft giusto per cui qua vicino ci sarà il dan a partenza